Ciao a tutti coge e ben ritorno della vostra Andrea di Cromantuno su EverOasis Piccolo appunto, io sono già stato all'Aspiral Cava per motivi del tutto casuali E ho incontrato lì una bulbina, quindi cosa ho fatto? Ho parato con la bulbina, è venuta all'oasi, ho scoperto che fa gelati Ma devo andare a fare una piccola missione per lei, cosa che non farò perché non c'ho voglia Perché voglio andare avanti con la storia Però ho fatto lì l'idroportale, quindi se faccio l'idroportale vado a casca sabbia Quindi io direi di andare senza perdere tempo all'Aspiral Cava e continuare l'avventura Perché devo passare proprio per l'Aspiral Cava per andare nella nuova porzione di gioco Purtroppo è così Questi nemici minori vorrei sconfiggere durante il mio percorso verso l'Aspiral Cava Perché tanto, insomma, non è che siano di chissà quale intraccio Però danno sempre materiale che non basta mai, materiale che danno questi Quindi preferisco affrontarli Cacchete! Ah, si dà spina, eh vabbè Allora, l'Aspiral Cava sta qua sotto Ed era accessibile solo dopo aver reclutato Beh, diciamo reclutato E essere diventati amici Di... di un laicona Per l'appunto Salam Allora, andiamo qua sotto Se appena posso mi butto Faccio kamikaze Ok Ah, liberiamo questo piccolo coso di sabbia Che potrebbero dare I cumuli di sabbia in genere danno frutto alisir Frutto alisir è sempre una comodità incredibile Ah, ci vorrebbe Levi O meglio, un Muserka che ha il martello In genere uso Levi per il martello Però, a quanto pare, non si può fare senza Levi Giustamente Ci vuole l'abilità adatta Abbiamo un... un coso Sabbia Vespa, ok Ho roto con me Sì, ho roto perché mi serve appunto vedo lì Ok, sabbia Vespa Vai a quel paese E quanto è resistente Dove vai? Che è? Vuoi un abbraccio? Puzzona Eh no, io! Perché io? Muo fa male, per qualche turno farà male Ah, aia Mamma è veleno, curami Roto, dov'è roto? Puzione totale Nuova ricetta Che cosa? Ho ingrandito l'oasi anche di un livello Ora che mi ha fatto venire in mente questo la ricetta Cosa? Ma? Ma non ha senso Non ha senso sta cosa Ah, da qui sopra Ah, ok Eh no, dico Vedo roto lì che non ci può andare Dico, ma come? Da qui sopra con la magia del vento Tre Trua And Trua Oh yeah Spero sia qualcosa di utile Oro Ma sono troppo pigro per andarci Salviamo lo stesso Cioè, non serve salvare Perché sono praticamente 5 minuti che ho iniziato Ma Insomma Salviamo lo stesso Non si sa mai Preferisco salvare Un gioco dove non salvo mai È Pokémon I giochi della serie principale Più che altro Le Akrom Salvo di continuo Perché non si sa mai Essendo appunto ROM Possono rivelare Sgradevoli sorprese Oh, bene Wow Oh Vederlo da vicino Fa un altro effetto Devo ammettere Wow Che sono sti cosi? Cactus Groviglio Polpa granulosa Mi serve Bene Tre me ce ne vuole A Mercola Vieni qui Che è successo? Ah, è confuso Eh, vedi di sconfonderti allora Perché non c'ho gente che Che deve essere confusa Ho raccolto tre polpe granulose A quanto pare Quindi la missione che avevo accettato È scomparsa Che era quella del gelato Mi pare, sì Era quella che voleva Quella che fa i gelati Che praticamente voleva la polpa granulosa Per fare i gelati E A questo punto Io continuo E vado un attimino avanti Perché Sembra che stia arrivando In un'area aperta Dove ci saranno nemici assurdi Ovviamente No Non mi dire che Oh mio Dio Oh mio Dio Ingualligatore Vieni qui Dov'hai? Quando alza il culo Ragazzi Scappate Oppure quando vuole Abbracciarvi Voi scappate pure Cioè Da dove è spuntato? Da nulla Non mi sembrano Bombe cactus Cioè bombe cactus Bombe fiori Voglio dire No infatti sono anfore Non danno materiale Ma Oi E Ah Pensavo era da rompere Mi è preso un attimo il dubbio Qui pure c'è un po' di materiale da acchiappare Ma Dovrà tornarci poi Deserto di Gala Era quella porzione lì Sì giustamente Era giusto Era giusto in effetti Tunnel del canyon No Non mi dire che ci sono ancora quei cosi che si passano Proiettili Ehm No però Sì invece Allora l'avevo visto bene Ci vuole Una dra Oh Chi è? Da Ma Ancora i petrascippi rompono le palle Andate un po' via Ah piccolino Se hai corso contro la parete Non c'è più dove scappare Bitch Dico bitch un po' troppo spesso ragazzi Ma Quello è stronzo proprio Cos'è? Oh mio dio Aiuto Un baby Millelef Cos'è un babylef? C'è So il nome ma non Non so cosa voglio dire Petrascippo Petrascippo Insomma C'è quello era tipo il boss Che faceva il trappolozzo Questo no Questa è una piccola roccia da rompere I Fanno danno credo Ma posso anche evitarli facilmente Ah Ehi Ci vuole il muro di foglie? So già che Quello da premere È ovviamente Quello dove c'è La foglia Da scudo Quindi Uno apre queste scale qui Che non conducono a nulla E un altro apre le altre scale Che conducono a quel piccolo forziere Quindi O vado dietro portale Oppure vado dietro questa porta E vedo se c'è Un punto di salvataggio Ok Allora Qui serve un laicona E penso che porterò una dra A parte che posso vedere Chi portare Posso decidere Può salire? No Sto cercando di capire Come funziona Vorrei evitare di fare cose inutili Ah Interessante Posso buttarmi E qui sì Ok salviamo Ma vado un attimo all'oasi E vedo chi ci vuole Per questo dungeon Ho messo Un'altra Draa in squadra Non miura Perché miura Comunque sia Di livello bassino Ci ho messo un'altra Che ha più Effetto Più forte Dunque era Sahara Con la con cui parlare Che appunto Voleva fare Il gelato Ci volevano Tre polpe di unità Tre unità di polpa granulosa E quindi Ora Oltre ad entrare Nell'oasi Diventerà anche Una Una bulbina Che lavora Nella gelateria Che era quello Che ci serviva Non Per Il bulbino Dello scorso episodio Ma per un altro Che è entrato nell'oasi Appunto Mentre giocavo Off screen E parlando con Appunto Esna Ha detto che A livello 16 Dell'oasi Avremmo potuto Ingrandirla Per fare più Una Per fare più Bulbottega In poche parole Allora Sentiero ventoso Del gran canio Vact C'era un serca Tormentato dal caos Un serca Cerchiato Ok Appena potrò Questo Sairus Che voleva Ah Punta spirito E panteratto Ok Dov'è No Allora Qua è un casino Di roba C'è da fare Facciamo così Questo Merodacce Era questo Che voleva Il gelato Sì Questo voleva Il gelato Ma non Non ho Non ho modo Di farlo Ancora Allora La bottega Del gelato Presto La farò Allora Eccoci qua Sono con elana Quindi Lei è la draca Ho scelto Non dovrei neanche Avere problemi Comunque sia Superare Questo piccolo Punto Qui Con lei Ok Attacchi Attacchete Scendi Scendi E via Qui Vediamo un po' Non ci credo Ce ne vogliono due Oh Mo' ce la facciamo Forse Per cosa? Campana del bene Ok Ora posso andare Siamo pronti Sono abbastanza Carico Vediamo un po' Aha Ok Capisco Oh Oh Ecco Perché ci vuole Qualcuno Con la freccia Ai 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 Vabbè Facciamo una cosa Se non si Andassi qui sotto Fermati Andiamo con lui Già vedo Che il caos Ci blocca La strada Quindi non Non mi fiderei Più di tanto Ok Eccolo O Eccoli No Eccolo Perché Ce l'hanno tutti quanti con me Sabbia Dzeko Eh Madosca È un Dzeko un po' cresciuto Questo Eh Ma L'ho evitato Come Come mi ha preso Cioè Non si è Non ha fatto nulla A parte un attacco Ce n'è un altro No Era finito qui Ah Beh Tunnel del canyon Era solo Per prendere Un paio di strumenti E va bene Andiamo avanti Allora Eh no Aspetta Sbagliato Voglio riporre l'arma Andiamo avanti A questo punto Oh Grand Canyon Vact Oh Ci picchia Che era quella costruzione Immensa Beh L'unica strada Da seguire È questa Picchio grifo Che figata Giù Devi Andare giù Madonna Se ti prendo Se ti prendo Non ti prendo Però Ah Vai giù Ora Cos'è successo Non ho capito Ma vai giù Per l'amor del cielo Non so dove andare Cos'è Grand Canyon Ah Questo Sì Devo trovare questo Devo sconfiggere questi Non sono molto Vitali Diciamo Hanno poca vita Hanno poca vita Però Oddio Cosa è successo Ma è scomparso Ma Vabbè Quel paese Poteva restare Un minutino in più Io sento suoni Madonna Sto spavendo questo A 14 Insomma Tenà un po' di Ponte esperienza Dai Oh L'ha paralizzato Con la bola spietra Grande Questo Se alza il culo Spostatevi Eh Stava per alzare il culo Però l'abbiamo bloccato Con l'attacco Andiamo ragazzi Grande così Perfetto Perfetto Molto ottimo lavoro Cactus candido Polpa granulosa Bene Oh mio dio C'era un altro qui Ehi baby Come te la passi Stanotte Che fai di bello Puoi andare a fare un giro Quando apprendo un caffè Eeeh No Mi vuole sodomizzare Eh si Alza il culo E me lo sbatte in faccia Se questo non è sodomizzazione Non lo so Ok Siamo Siamo clear Siamo clear Ok siamo clear Di qui si casca No grazie Aspetto che faccio A giorno Per ritrovare I granchi Cosi Là Eeeh Perché mi danno Oggetti Per fare la spada Veritiera Mi sembra Si chiami Ok Vediamo un po' Qui Aria aperta Oh mio dio Cosa sei tu Un oculoide Quello che mi serve Spara qualcosa Dall'occhio Scommetto Oh è uno shuriken Grande Come l'abbiamo Ah no è morto salam Oh mio dio Oh mio dio Iperraggio Si quanto lungo Quanto dura il tuo iperraggio No non te lo faccio fare E se l'ha fatta invece Non ti alzare Ma va bene Salam Però non fare salame Lacrima di stella Non so se è quello Che mi serviva Non mi ricordo Quello che mi ha chiesto La vecchia del villaggio Della De De vattela pesca Di tra Ah qui bisogna salire Ok Volevo esplorare un po' Cosa è successo Non ho fatto abbastanza forza Ok Eeeh Non ho C'è una mosca davanti allo schermo Mosca zanzara Cosa Odo più la mosca Le zanzare delle mosche Sono fastidiose quanto Una cagata di piccione sulle mani Perché Si un piccione una volta mi ha cagato sulle mani Ok Ora lo sapete E chiunque mi stringerà la mano Ora in poi saprà che Un piccione mi ha cagato sulla mano Che bella immagine eh Si però Ti devi stare Fermo Dammi il culo Cioè nel senso Dammi le spalle Ecco Zitto Senti Allora Già mi stai sulle scatole Ci sono altri tuoi amici Là davanti Là ce n'è Uno Ah no Quello è un culoide Vabbè Niente Senti Maledetto Stronzo Muori Male Oh E allora Eh mo Poi Poi acqua perde la vita Recuperiamo un po' che anche Salam sta Decisamente giù Ok ora stai tranquillo Bene sono ancora avvelenato Potevo aspettare che sparisse il veleno No Non potevo Perché non rifletto mai prima di agire Oh è andato via Si è dissipato da solo Non funziona come in Pokémon Che ti rimane un punto salute E qua te ne rimangono un po' di più Per fortuna Allora C'è Patrick Stella Che fa un attacco Iperraggio Che rompe tu i culi Oppure fa l'attacco Shuriken Dipende da come gli gira A giornata Preferirei attaccare Patrick Stella Veramente Tanto che ci so attacco pure lui Chi se ne frega Patrick Yeah yeah Eh va Aiuto Shuriken Poverino Nessuno si sta preoccupando Della sabbia vespa Si sente esclusa Dai Oculoide Qua è andato Oculoide C'è Oculoide 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 L'accento Dove deve cascare Eh aiuto Vai via Quanti mostri ci stanno Ok Ok Dai Eccolo E' fatto Ah ora è fatto Bene Tornatene sotto la sabbia Wow Questo posto è Huge Immenso Da lì sono venuto Quindi eviterai di andare Cioè ma Ma No Chiedo scusa Ma La strada qui Si interrompe Cosa Dunque Dalla si risale Però vedo Adio Vado a dire Banzai Ma mi è riuscito male Dunque Qui si va Per Di qua Ah una grotta Ah Pensavo fosse una via Che passava sotto Sentire ventoso No al mostro Facciamo così Ecco Se almeno diamo pure un po' di danni al mostro Di amo Sabbia Geco Si però non te la prendere Solo con me Ci stiamo Stiamo in tre Stiamo Te la prendi proprio con quello più sbagliato Di tutti Ricaricati con questo Ricaricati Che non gli ha fatto nulla Poi Anche a terzo livello Ye Eh Cosa vuoi fare Bitch E va C'è un cerca Lì ho appena visto Mi sono potenziato tutto Ma non è servito a nulla A quanto pare Continua a prenderci Mazzate malissimo Vai a quel Paesaccio Maledetto Ah Un altro Ma Ma Quando si è formato Allora Ce l'abbiamo fatta Sì Eccolo qua Signore Lei Come se la passa Male scommetto Ehi Fa' attenzione È pericoloso Mi lascio tormentare Dei mostri del caos Per affinare le mie tecniche Sconsiglio agli inesperti Di prendere esempio da me Un cerca Archerchiato Bene Ma tu guarda Sei un capo Asi Questa sì che è una bella notizia Verrò a intrattenere la gente Delle toasi Moriranno dalle risate Sì Ok Etrua Andiamo Oh Qui si salva Allora le cose si fanno interessanti Salviamo Il sentiero ventoso Deve essere una piccola porzione di gioco Oh Ci vogliono altri alleati Co Cosa Ma cosa Pavotrice Che non mi pare sia l'unico Ci vuole uno che blocca È roto Eh Sì Per forza Non si può andare avanti Scappiamo via subito allora Allora Cuccio Concludo qui l'episodio Nel prossimo andremo avanti Faremo il sentiero ventoso E spero anche di riuscire a fare parte Del canyon Vact Non ho Non ho idea Devo trovare comunque sia gli ingredienti Per fare la spada Quindi devo recuperarli Poi vedrò di fare anche il sentiero ventoso Quindi io come sempre Vi ringrazio per aver seguito questo video Che spero vi sia piaciuto In descrizione trovate sempre il link per twitter E se ancora non siete iscritti al canale Iscrivetevi E noi ci vediamo in un prossimo video Bye bye